Buona giornata, sono Luca Viscardi, Mr. Gadget, vi presento LG Wing con le sue tre fotocamere posteriori, con il display da 6,8 pollici, USB Type-C connettore, il cassettino delle SIM su questo lato, sulla parte superiore vedete la pop-up cam frontale e sull'altro lato invece pulsanti d'accensione e volumi. Ma qual è la caratteristica fondamentale di questo oggetto? La vediamo subito perché la caratteristica fondamentale è questo movimento che potete fare anche solo con un pollice per svelare il secondo display, sono soluzioni molto avanzate, potete personalizzare un sacco di aspetti del telefono, ad esempio vedete quando aprite c'è questo menu con le vostre applicazioni principali che potete personalizzare in qualunque momento, c'è un meccanismo che è ammortizzato per rendere l'apertura più semplice e ovviamente ci sono dei vantaggi nell'utilizzo con i display aperti, c'è anche una soluzione per evitare che il display superiore possa rigare quello inferiore, vedete menu che sono disponibili su entrambi i display e che cambiano anche a seconda che lo schermo sia aperto oppure chiuso, vedete come la disposizione dei contenuti sullo schermo venga ottimizzata e poi ovviamente ci sono le applicazioni, ad esempio vedete con YouTube voi nella parte superiore vedete full screen il vostro contenuto e nella parte inferiore invece controllate il volume piuttosto che la luminosità del display e poi anche l'avanzamento e l'arretramento dei contenuti, quindi essenzialmente avete la fruizione a pieno schermo del vostro contenuto senza nessun comando e nessuna sovrapposizione che vi disturbi. Non è ovviamente questa l'unica funzione, ce ne sono molto altre, sono molto interessanti, guardate ad esempio nella galleria, voi potete una volta attivata la galleria appare questo comando che coordina lo schermo inferiore e a questo punto lo schermo inferiore diventa una specie di telecomando della parte superiore e potete anche entrare nei video, anche in questo caso avanzare, arretrare insomma e nel caso anche addirittura editare i videoclip che vedete a questo punto rimangono perfettamente visibili nella parte superiore, voi nella parte inferiore potete dedicarvi all'editing usando l'editor incorporato. Quindi questo è un altro esempio di come la disponibilità dei due schermi possa essere utilizzata. Il coordinamento infatti tra lo schermo superiore e lo schermo inferiore parte da quella linguettina che vedete sul lato dello schermo in basso, vedete quando premete quella allora a questo punto i due schermi vengono coordinati, possono essere scollegati in qualunque momento, come vedete basta premere questa icona. Sono molte le interazioni rese possibili, ad esempio guardate con i messaggi, i messaggi appaiono sullo schermo principale e la tastiera è in basso, volendo però potete fare il contrario, se per voi è fondamentale scrivere con una maggiore comodità potete accedere ai messaggi e a quel punto quando dovete digitare avete la tastiera nella parte inferiore, peraltro con uno swipe la allargate oppure la stringete. Quindi soluzioni che sono state adottate all'interno di questo smartphone che trovo interessanti in diversi tipi di applicazione, perché vi faccio vedere ad esempio con Well, con il browser, potete entrare in YouTube per fare un esempio, avete il contenuto nella parte superiore, mentre nella parte inferiore potete visualizzare il navigatore, di YouTube, mettere un mi piace se può essere di vostro interesse, piuttosto che scrivere magari un commento. È una delle diverse modalità con cui utilizzare questo schermo doppio. Ci sono dei vantaggi in svariate applicazioni, ad esempio vi mostro una cosa curiosa che è quella del grip lock, cioè voi potete bloccare essenzialmente la parte inferiore e potete muovere il telefono e quindi avere un'impugnatura più solida senza interagire con lo schermo in basso. Quindi LG ha lavorato molto allo sviluppo di soluzioni che rendessero questa rotazione dello schermo veramente efficace. Una di queste è ad esempio la combinazione delle app, l'abbiamo visto anche su altri dispositivi, potete con un solo clic aprire due app contemporaneamente. Siete voi a decidere quale sia la combinazione, ne potete mettere infinite, nel senso con tutte le applicazioni che avete aperto sul vostro smartphone. Peraltro passare, vedete, anche da un'applicazione all'altro, due applicazioni ad altre due, è molto semplice. La personalizzazione di questi shortcuts si fa veramente con una facilità pazzesca, perché basta accedere a questo menu multi-window, selezionare le due applicazioni che volete coordinare con l'apertura e il gioco è fatto. Vedete che in questo momento avete a disposizione il calendario e poi il browser, dove in questo momento visualizzate Mr. Gadget. Quindi, davvero, per quanto riguarda la facilità d'uso, parliamo di un telefono che funziona veramente bene. Peraltro, processore 765G di Qualcomm, 8 giga di RAM, una discreta potenza. Devo dire, non è un telefono con una potenza mostruosa, però devo dire che tutto sommato la reattività è buona. Questi prodotti che stiamo utilizzando hanno un software che non è definitivo, quindi a volte potreste vedere magari qualche incertezza, ma è importante sottolineare, insomma, che ci vuole un po' prima dell'arrivo di questo oggetto. Come funziona il doppio schermo, ad esempio, con i videogiochi? Lo vediamo con questo Asphalt 9, che è uno dei giochi ottimizzati per LG Wing, che vi permette di avere informazioni differenti nella parte superiore e nella parte inferiore dello schermo. Se voi avviate, vedete già adesso ci sono delle indicazioni differenti, ma nel momento in cui voi cominciate il vostro gioco, cominciate la vostra partita, il telefono vi fornisce delle informazioni supplementari sullo schermo, in questo caso superiore, vedete, avete la mappa, mentre sotto si gioca e sopra essenzialmente si sfrutta la mappa. So che vi ho detto essenzialmente circa 8 milioni di volte, ma il gioco di questo video è contare quante volte riesco a dirlo prima della fine di questa hands-on con LG Wing. Ecco, vedete l'utilizzo di Asphalt con la mappa nella parte superiore che vi dà una mano. Un telefono con molte caratteristiche interessanti, bisogna entrare nella fotocamera, tre sensori, uno da 64, un grand'angolo da 12, uno da 13. Il grand'angolo da 13 serve per fare quello che vedete, ovvero l'effetto gimbal, quindi come se fosse una fotocamera stabilizzata, vedete, avete la possibilità di fare il pan mod, vedete come in questo momento, pur shakerando l'immagine, resti al centro, fissa l'immagine che state riprendendo. Avete le modalità anche di registrazione che di solito LG offre nei suoi ultimi telefoni con ovviamente uno status di flagship, sono tantissime. Ad esempio, qui potete vedere il lock dell'immagine, quindi voi fissate un'immagine e pur muovendo il telefono vedete che rimane al centro della vostra inquadratura. Esiste poi la possibilità di fare una ripresa doppia, arriva la fotocamera pop-up e vedete in questo momento avete il dual screen recording, potete scegliere tra l'altro se registrare con due file separati oppure no. La fotocamera frontale, come detto, è una fotocamera con il pop-up, ci sono un miliardo di funzioni nella fotocamera principale. Quando aprite il telefono potete solo usare la gimbal, mentre per usare i 64 megapixel, per cambiare i formati di ripresa, per fare insomma tutte le cose che vi servono con una fotocamera, il telefono deve essere chiuso. C'è una modalità portrait, potete utilizzare anche il tipo di effetto che vi piace di più alle spalle del soggetto principale. Una volta che avete inquadrato il soggetto principale poi potete scegliere gli effetti e vedete con l'apertura della pop-up cam appare e scompare il sensore fotografico frontale. Un'altra possibilità di utilizzo in macchina ad esempio. Immaginate di prendere il navigatore, ecco così potrebbe essere in macchina, agganciato sul supporto, voi selezionate una destinazione del vostro viaggio, partite con la navigazione e mentre state navigando potete comunque utilizzare il telefono ad esempio per fare una telefonata senza che vi venga ostruita la visualizzazione della mappa oppure anche vedete navigare in internet, insomma leggere Mr. Gadget mentre si guida non è consigliabile, però insomma negli altri momenti della giornata può essere piacevole farlo. Quindi insomma anche questa è una funzionalità interessante. L'ultima che vi mostro è quella del touchpad, quindi quando avete aperto lo schermo inferiore potete avviare questo touchpad che vi serve per navigare nelle funzioni e nelle opzioni di quello superiore. Potete utilizzarlo anche proprio come un touchpad da computer, aspettate che adesso non ho, ecco vedete, allargate, spostatevi, muovete con le gestures esattamente come se foste con l'utilizzo di un touchpad di un computer. Insomma un prodotto bello, completo, tutto sommato peso anche contenuto perché ci si ferma a 260 grammi, è costruito bene, non è grossissimo, cioè nel senso che ha uno spessore generoso ma non esagerato, non vi nascondo che avevo qualche perplessità e invece non mi dispiace. Arriva ad ottobre, prezzo sotto i 2000 euro ma non sappiamo ancora quanto. Grazie.